Creazione percezione 2.f attraverso Francesca R. 7 gennaio 2024 a cura di VB e Laura Nova. Michelle Immagina un'onda, ti è più chiaro così. Immagina che ogni increspatura sia un filo che si muove a livello di onda e si ripercuote in ogni aspetto possibile, che tu possa conoscere o immaginare, che compone il tutto. Il tavolo, il tuo corpo, il loro corpo, noi che parliamo. Questa vibrazione, questo filamento, chiamato desiderio, che porta l'onda vibrazionale che permea il tutto, collega qualunque parte e quindi fa sì che niente sia al di fuori e separato ed esterno all'assoluto. Quindi il desiderio passa attraverso ogni piano di esistenza. Caliamoci nel piano fisico e quindi torniamo alla domanda Come facciamo a creare? Per creare bisogna desiderare un qualcosa che sia un avvicinamento, che sia un mutamento di situazione, che sia qualcosa che non esiste intorno a noi nel piano fisico. Attenzione, sto parlando come se fossi uno di voi per rendere più semplice il discorso e non crearvi confusione di distanze. Quindi ho abolito la distanza nella spiegazione. Quando incomincio a desiderare qualcosa, attento, questa è la spiegazione, è molto semplice. Desiderando qualcosa incomincio a percepire. Ecco perché si dice creazione percezione. Quel moto vibratorio che collega il tutto. Percependo si crea con il desiderio l'avvicinamento della possibilità reale della soluzione. Quindi facciamo un esempio pratico perché è un concetto difficile da assorbire all'interno del piano fisico. Ne sono perfettamente consapevole. È una caratteristica del piano fisico. Quindi andiamo su qualcosa di molto basso per capire. Si inizia come? A desiderare di avvicinare delle persone che ci capiscano. Quindi si comincia a desiderare di incontrare, di essere circondati da chi ha una vibrazione similare. È immediatamente questo desiderio, quest'onda vibratoria. Farà in modo che nel proprio vivere quotidiano si venga sempre più ad essere avvicinati da persone che apparentemente la pensano come voi. Che apparentemente hanno gli stessi sogni, hanno le stesse necessità. Vissuti similari, difficoltà similari. Questo perché il desiderio accomuna. La legge evolutiva è economica. Quindi una situazione non si verifica solo per un singolo essere incarnato, ma si cerca sempre di unire le possibilità. 20 minuti e 3 secondi. Percettive, vibrazionali, di tante entità incarnate. Quindi la legge avvicina chi ha un moto vibratorio similare. Quando questo moto vibratorio raggiunge nel suo desiderio un picco, crea automaticamente e percepisce una modifica nella sua capacità di espansione, di ampliamento vibrazionale, verso un qualcos'altro e quindi incomincia fisicamente a ridurre le distanze verso chi ha un'ampiezza maggiore, perché bisogna, evolutivamente parlando, andare avanti. Ampliare la propria evoluzione. Abbattere l'io. Raggiungere sempre di più l'ampliamento massimo, che si riduce nel desiderio che è assoluto, che è. Vi è chiaro? Non troppo? Grazie. 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 Grazie.